Occorre pazienza, tanta pazienza, perché non potevano di certo bastare 5 giorni con un nuovo allenatore per cambiare il volto ad un Avellino che pure contro il Foggia è apparso ancora frenetico, confusionario, abulico e in condizioni fisiche precarie. Rispetto al recente passato targato Rastelli, grazie all'imprecisione degli ospiti e un pizzico di fortuna è arrivato almeno un punto che ha il sapore di un brodino d'estate. Magra consolazione per una squadra uscita tra i fischi di un pubblico deluso che dopo 3 giornate non ha ancora esultato nemmeno per un gol. Gol che Chicco Patierno, per grazia ricevuta da un assist sbagliato di Vacca, poteva realizzare al quarto di recupero ma solo Soletto davanti al Nobile ha calciato clamorosamente fuori. L'episodio finale di una gara giocata oggettivamente male da tito e compagni, eppure il neotecnico è arrivato martedì mattina da San Severo di Foggia, che ieri è tornato a sedersi su una panchina dopo l'eliminazione del suo Cerignola lo scorso 22 maggio proprio per mano dei Satanelli, non ha esitato a rivoluzionare tatticamente il lupo plasmato dalla Stelli sul 4-3-1-2. In cinque giorni di lavoro, compresa la mattinata della gara, l'ex centrocampista di Napoli-Fiorentina ha alzardato una mezza rivoluzione, ma l'equilibrio non è arrivato nemmeno col valo del più classico e coperto 3-5-2. Di contro, l'ex Mirko Cudini ha confermato il suo 3-4-1-2 di partenza, piazzando schienetti alle spalle di Tonin e Beretta, ma soprattutto alzando di molto il suo baricentro. Un atteggiamento spavaldo che soprattutto nel primo tempo ha messo in seria difficoltà un Avellino in crisi di identità, che si è ritrovato a difendere a oltranza rischiando di capitolare almeno in tre circostanze. Al terzo su incursione di Garattoni, che infilandosi tra Regione e Cioneca ha graziato di testa Ghidotti, al decimo su tiro dalla distanza dello sgusciante schienetti e al sedicesimo quando Rizzo ha trovato in aria un liberissimo Beretta che ha allargato troppo la mira del suo sinistro, ad una decina di metri da Ghidotti. Pericoli in successione creati da un foggia padrone del gioco che l'Avellino ha provato a spezzare solo alla mezz'ora con un tiro dal limite di Cancellotti che ha almeno sporcato i guantoni a Nobile. Un fuoco di paia perché sebbene con meno intensità sul finire del primo tempo è stato nuovamente Garattoni e inserirsi alla perfezione tra le belle statuine della difesa erpina, ma non ha trovato il giusto impatto con la palla. Rientrato negli spogliatoi con la fortuna di essere ancora in parità, pazienza e nella ripresa ripartito con lo stesso undice e lo stesso modulo, confidando in una reazione diversa che almeno nei primi 15 minuti non c'è stata perché il Foggia ha continuato a sparare a salve con Tonin. Allo scoccare della prima ora di gioco però l'inserimento di Palmiero e Gori al posto di Armellini, dello spento Marconi, ha almeno provocato la scossa della prima azione elaborata su cross di Cancellotti e una torsione di Patierno disinnescata in guffo da Nobile. Un sussulto che verso la metà della ripresa ha rivisto lo stesso Patierno non accentuare troppo la caduta in aria su un contrasto col Marsupio, ma anche calciale dritto per dritto dal limite dell'aria. Stancamente, mentre il Foggia ha continuato a sbagliare, occasioni sia con Martini che con Beretta, ed è iniziata la girandole delle sostituzioni, nella confusione generale è stato, come detto, lo stesso Patierno ad avere sul destro le due occasioni per scippare una vittoria ad un Foggia sciupone, ma apparso più in palla rispetto ad un Avellino troppo brutto per essere vero. No, no, no! No, No! No, no! No, no, no!